80 nuovi positivi su 1762 tamponi. Sale leggermente il numero di nuovi contagiati in Campania dopo il calo di due giorni fa. Questo è il dato fornito dall'unità di crisi della regione Campania. Quattro nuovi casi di positività sono stati riscontrati tra i dipendenti dell'ospedale civile di Pozzuoli, tra cui un medico. Si vanno ad aggiungere ai 23 dipendenti risultati positivi ieri, portando il totale a 27. Ieri sempre sono stati lavorati 183 tamponi dopo il focolaio scoppiato nelle festività pasquali. Si conta di completare le lavorazioni degli esami entro la giornata di oggi in modo da avere un quadro completo della situazione sanitaria. Cinque ospiti invece della casa di cura per anziani Villa Mercede di Serrara Fontana a Ischia sono risultati positivi al coronavirus a seguito delle analisi effettuate dalla Asla Napoli 2 per il monitoraggio della diffusione del covid. Nei giorni scorsi un'anziana signora, ospite della RSA, era stata trasferita all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e dopo poco era deceduta facendo nascere interrogativi sulle cause del decesso. I cinque pazienti sono in buone condizioni di salute e saranno verificate le stesse nei prossimi giorni. Sono più di 20 invece i contagi riconducibili in maniera diretta o indiretta al focolaio ospedaliero diffusosi nel reparto di chirurgia all'Umberto I di Nocera Inferiore. Si tratta di medici, infermieri e pazienti, una situazione d'emergenza che ha spinto i sindaci di Nocera Inferiore e Superiore a chiedere la temporanea chiusura dell'ospedale per la sanificazione. Prosegue incessante sul territorio il controllo del rispetto del DPCM del governo. 16 sanzioni da 533,33 euro sono state comminate ieri dalla polizia locale di Napoli, ad altrettante persone sorprese alla guida senza comprovate esigenze. Complessivamente sono stati controllati 1.282 conducenti di veicoli e 904 cittadini a cui sono stati richiesti i moduli di autocertificazione. Oltre alla sanzione per i trasgressori è scattata anche la segnalazione alla ASL territoriale per isolamento fiduciario. La polizia locale nell'ambito dei controlli anticontaggio ha ispezionato anche 446 negozi, due titolari sono stati verbalizzati per non aver fatto rispettare le normative.